Ti sei mai chiesto cos'hanno di speciale le persone che riescono ad avere successo, a diventare numero uno? Io sì. Ovviamente ognuno di noi è diverso, però c'è una caratteristica comune che tutte le persone di successo hanno. Chiunque abbia cambiato il mondo aveva questa caratteristica, chiunque. C'è chi la chiama tenacia, c'è chi la chiama determinazione, io la chiamo avere la testa dura. Perché quando è un sogno è un po' come stare su un ring con le mani legate e la vita che ti prende a pugni. Cercherà di piegarti in tutti i modi, di tirarti dei pugni sotto la cintura mentre l'arbitro guarda dall'altra parte e tu dovrai stare lì a incassare, incassare, incassare. E in queste circostanze non ti serve a niente essere particolarmente bravo, particolarmente intelligente e tantomeno ti serve essere fortunato o avere tanti soldi. Ti serve una cosa sola, resistenza o come la chiamo io avere la testa dura. Finisce a terra? Fa niente, solo chi non è sul ring non finisce mai a terra. Tu invece ci sei per cui resisti, sputa il sangue e rialzati. Hai gli occhi neri, gonfi, non ci vedi più? Fa niente, resisti e stai in piedi. Non ti senti più le gambe? Non mi interessa. Stai lì e continua a incassare. E tutto questo round dopo round perché la vita vuole dimostrare a tutti i costi che non sei in grado, che non ce la fai, che gli altri sono più bravi, ma soprattutto vuole dimostrare che non ci tieni veramente, che al primo livido abbandonerai per non farti male. E spesso a Bordoring ci saranno quelli che tu chiami amici, i genitori, i parenti, chiunque, a dirti di lasciar perdere, a ridere di te e magari a dirti che alla tua età sarebbe anche ora di smettere di star lì a prendere pugni e trovarti un lavoro vero. Ma se ascolti loro, non puoi ascoltare una cosa molto più importante, cioè quella voce nella tua testa che dice Ah sì? Mi vuoi sfidare? Bene! Vediamo che è la testa più dura, dai! E allora tu stai lì, resisti, tanto non può picchiare per sempre, no? Prima o poi si stancherà. Gli altri hanno perso perché non hanno avuto pazienza, perché faceva troppo male, perché pensavano che sarebbe durata per sempre, oppure hanno preferito trovarsi una gabbia più piccola, ma con botte meno violente. Tu invece sei diverso, stai lì, resisti e sai cosa accade poi? Quando arrivi al punto che un altro pugno ti manderebbe in cova, poco prima del colpo di grazia, la vita ti chiede Allora ti arrendi o ti uccido? Ma tu non ti puoi arrendere, tu hai quella voce nella testa che ti dice Dai, provaci, ammazzami, vediamo che sai fare, tanto non mi importa, dai! Allora la vita carica il pugno e... Fine. Si arrende lei, si toglie i guantoni, ti slega le mani e ti consegnano il monte premi e la poppa. Perché hai dimostrato che ci tieni davvero, che sei pronta a morire per il tuo sogno, che sei degno di realizzarlo? Non c'è posto per tutti là in alto, solo per chi lo vuole veramente, per cui la vita ha creato questo piccolo test d'ingresso. Ad alcuni basta un round per riempirli di botte, ad altri invece ce ne vogliono tantissimi, ma non è il tempo che conta, è la tua decisione. Sei disposto a resistere qualunque cosa accada, anche se ci vorranno 2, 5, 10 anni di botte, oppure no? Chi ce l'ha fatta, aveva risposto sì. Chi ce l'ha fatta, aveva risposto sì.